troppe persone quest'anno non sono nelle condizioni di festeggiare il natale a causa della pandemia e della crisi è proprio con loro che vogliamo condividere la speranza e la pace del natale di gesù un dio che chiede di essere accolto oggi come 2000 anni fa ci vediamo domenica su rai 2 sulla via di damasco per parlare di natale e di lavoro dalla suggestiva e simbolica assisi città della fratellanza e della pace innanzitutto partirei dalla dimensione umana quella familiare ma di utilizzare anche l'evento del natale come una riflessione che senso ha per me per la mia vita questo bambino che nasce nella mangiatoria